Ehi, ciao ciao, ehi amici, ok, ok, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video di Fieldy Facility Ehm, oggi giochi, wow, questo è una nuova mappa, questo è una nuova mappa, grazie mille Ah, devo schiacciare solo una volta c'è, qua, io sono scoperto, non lo vuoi Per c'è solo una volta per fare così, bang 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 Ehm, ancora c'è così, per ancora e, e fa solo con le competenze, si, aiuto Ai, ah no, vabbè, andiamo questo qua, guardate questo, guardate si fa, eccolo là Ehm, tonto, sono il Valcormaster però, sono un survivor, ok, ok, ma non vedo nulla, ok, ok, inizio non vedo nessuno, ah, lasciate già... scrati 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 1billion 1billion ehh anche il nuovo ok io uuu metto così ok io vado così si 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 no aiuto oh no oh oh cosa fai metti in prima persona dai ok facciamo così finito però finito ok siamo salvi la oh help mi dispiace non 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 ciao ciao aiuto non mi ha visto che bello non mi ha visto ok 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 puedo aprire la porta dai apri ehm ok ah non possiamo aprire questo ah peccato peccato e vabbè e vabbè devo andare a salvarla no sono io e lei no ce la devo fare ce la devo fare oh no lui scappiamo ce la devo fare ok ragazzi oh ce l'ho fatta adesso non sappiamo cosa dobbiamo fare ehm io sì morto da paura sto qua tranquillo vediamo se può vedermi o no non può vedermi e vabbè stiamo qua la 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 manca quattro aspetta I can't believe there is a new map ok scriviamo qualcosa o no ehm boh scriviamo o m g r u che dingo mi che dingo che dingo mi ok ragazzi vabbè giochiamo così no 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 con la prima persona gioco prima adesso io lei ha guittato ragazzi lei ha guittato ahhh se adesso io mi devo eh eh come posso eccola qua oh ascensore andiamo qua questo qua i no eh ma cosa devo fare questo c'è wow 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 sembra murder mystery spedate ragazzi no 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 non posso non posso non posso non posso non posso sesso oh ecco uno dei computer i i guardate quando posso parar la persona sul computer guardate ok oh oh no ho sbagliato e adesso cosa faccio muoio scappa 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 buu scappa buu scappa 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 c'è un altro computer qua ok ha chiediamola perché non è non era arrivato quello coso bianco dai vieni boom fatto boom ha chiedato qua qua c'è l'exit qua sono spawnato io e da ok 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 questo è un computer doveva tirare no 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 oh ok aah 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 um uh uf 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 facciamo prenderla da soli facciamo così poverino c'è no ecco vicino no 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 ok non facciamo troppo forbi no 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 aiuto 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 e ricordate questo computer dai ce la possiamo fare non ce la possiamo fare 100% non possiamo fare ok benissimo uuuh fatto uuuh 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 adesso io sono non lo so però il suo pc ecco questo pc pc ecco lo pc la shift quello ok qua ho visto c'è un c'è una cosa segreta qua aspettate che vedere qua così così potete vedere anche l'altro qua c'è qua non c'è vuol dire questa parte ecco ci siamo vola e boom ci siamo è folle gli abel stessi possiamo clicciare qua non so clicciare su telefono però però ci provo non posso fare il paciente non posso fare su settings camera mode su default folle movimento sono il beast sono il beast questo è cose che ce li avevo ok non mi piace essere un beast ti ho visto mi dispiace adesso sei morto ma a te come ragazzi ragazzi sono scarso e e mazzato no cavolo te lo avevo detto sono io ti mazzo io ti mazzo 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 e vabbè ma questo è quello che si perde vero la prendo così oh finalmente un tizio è arrivato da me un tizio che è arrivato da me adesso vediamo da dove viene quello tizio ci sono qua eh non mi puoi mazzare ma tizio mattiaz vediamo dove viene E' l'altro è sorvalla! Vediamo quanto è forte! Mi dispiace perché... No, help! Cosa volevo fare? Dai, subito, subito! Dai, dai, dai! E' messo sulla trappola! E la chiudo così! E cosa? C'è un buco là! Posso stare qua! E' la belle abu zero zero! Ciao, ciao! E' la bella abu... E' la bella abu zero zero! Ciao, ciao! Adesso manca solo un tizio! Bob Scari! Dove sei? Dove sei? Amico! Che ti faccio un bel regalino! Amichino! Dove ci sei? E ti ho visto? Ti ho visto? Ti ho visto? No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Yei! Oh, oh, oh! Ho visto qualcosa di giallo, no? No, no, no! Ok, 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 ok! E' se che lui puoi vedere tutto! E' se che lui è sopra! Andiamo! Taran, taran, taran! No, il computer è qua! Tutto bene! Aiaaaah! 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 C'è un altro computer! C'è due co- computers! No! No, tiDS! Tu'otenterai aan! Eii! Pampâ-dampâ-dampâ reminder з'ute, eh vabbè! No, mi dispiace! Eee �è non so fare! 10 minuti, ma che cosa vuoi da me non sa- N'è- Eccoti! Il bobo scarso! T'ho preso! Ti ho visto! mi laghi? quando io devo ammazzare lui? quando io devo ammazzare lui? ma tu devi laggare sempre non così però così o ma che mh mmh 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 certo cosa faccio? vabbè no, sono morto no?! mää 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 hマ così 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 così, risette! perché non sono morto? shí 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 shí… ajjjjajajah però, vedete, se vi piacciono questo, lasciatemi un bellino mi piace detto questo non gioco più però vi dico mi piace più il coso e beast chance il per cento è una giornata e abu out bomba